Sono rimasto così commosso, vedere tutti questi bambini, tutti questi ragazzi che sono venuti per me e tutta la popolazione di Orsonia, ne sono così fiero, orgoglioso, che non potete immaginare, non ho un discorso preparato purtroppo, non sono gravaci di parlare bene, però quello che posso dire è una cosa, devo ringraziare ancora i vostri genitori, i vostri nonni che ci hanno salvato, ai tempi del nazismo, quando eravamo braccati praticamente come degli animali, la popolazione di Orsonia nessuno ci ha denunciato, malgrado che ci fosse stato un premio di quei tempi lì, di 5.000 lire, 5.000 lire era una somma enorme per ogni ebreo denunciato e nessuno orsognese, ricordate che i vostri genitori, i vostri nonni, nessuno ci ha denunciato e questo qua è un orgoglio per la cittadinanza di Orsonia. Toleranza, accoglienza, pace, queste sono le parole usate questa mattina ad Orsonia che ricorda la Shoah e ricorda il momento in cui durante la guerra e le persecuzioni gli orsognesi accolsero numerosi ebrei. Il sindaco Ernesto Salerni. Abbiamo voluto ricordare questi momenti proprio presso il cippo che è stato regalato dalle comunità ebraiche ad Orsonia per ringraziamento di quanto gli orsognesi allora fecero. Come è stato detto, gli orsognesi non denunciarono gli ebrei pur potendo avere degli riconoscimenti economici. Li hanno invece difesi, li hanno sottratti alla cattura e questo loro non lo hanno dimenticato. Anni fa hanno voluto regalare questo cippo a Orsonia insieme a un albero della pace, un ulivo venuto proprio da Gerusalemme. Ora noi abbiamo voluto rinvitare queste persone che allora da piccoli sono stati qui, in particolare uno, Bruno Laufer, che insieme ha voluto portare la Presidente dell'Unione Ebraiche d'Italia, la dottoressa Noemi Di Segni. L'altro aspetto veramente molto molto importante è la presenza dei ragazzi, la presenza del nostro istituto comprensivo che è a particolare quindi inclinazione musicale che con la loro presenza rendono ancora più importante questo giorno. Vittorio Pace, una ricerca storica ha portato a questo momento? Sì, sì, ha portato a questo momento perché ho conosciuto Bruno Laufer e ci siamo confrontati e lui ci ha raccontato l'esperienza e la bondà degli orsognesi verso di loro perché poi questi qua, questi internati, si sono inseriti in un modo favoloso e hanno sposato gli usi, i costumi e le tradizioni del nostro popolo, per cui gli orsognesi si sono sentiti fraternamente, si sono sentiti dei fratelli nei confronti degli ebrei e questi qua imparavano pure a cucire queste cose qua eccetera, dalle testimonianze che ho avuto. Questo mi ha fatto molto molto piacere, con Bruno abbiamo fatto il cipo e poi con l'amministrazione dopo abbiamo piantato l'albero del rio che viene direttamente a Gerusalemme, è stato inviato perché è il simbolo della pace. Al carissimo Bruno, a sei anni dovette con la mamma e col papà percorrere queste zone in cerca di un rifugio che non gli fu negato, non dimentichiamo soprattutto che questa famiglia poi riuscì, per tante situazioni ho consegnato la dichiarazione della mamma, Clara, rilasciata a Montreal nel 54, dove racconta il suo percorso di libertà e a Chieti stette come famiglia insieme alle altre famiglie locali, nessuno dichiarò che è un ebrei, è una diversa famiglia e quello che colpisce è che il sindaco di allora, il potestà si chiamava allora, praticamente gli fornì la famiglia di documenti falsi, la carta d'identità, vidimata dal comando tedesco, e la mamma racconta la trepitazione di quel giorno. Poi loro furono sfollati a Macerata, Ancona, Pesero, a Forlì e a Forlì nell'ottobre del 44 riacquistavano la libertà. Ma quante famiglie hanno avuto questo iter? Sente presente che nel mio libro sugli ebrei stranieri internati in provincia di Chieti, dove ci ho lavorato per circa 15 anni, nell'8 settembre in provincia di Chieti erano internati 366 ebrei, probabilmente 370. Di questi furono deportati 42 ad Auschwitz, 41 sono coloro che furono trucidati a Auschwitz. E mi preme ricordare due bambini che erano stati qui. Sapete dei bambini presenti a Orsogna, Bruno? C'eri tu, due femminucce, la stessa età, stessa a poco, e poi altri due, uno aveva un anno e mezzo e uno aveva due e mezzo. Poi questa famiglia fu trasferita a Castelfrendano e purtroppo Castelfrendano è uno dei paesi dove tutti gli ebrei furono arrestati. Mentre qui no, qui c'erano 31 di ebrei, quattro furono trucidati ad Ari qui vicino, due furono scoperti nel nord Italia e furono deportati a Auschwitz. La moglie di Brodas, che poi era un medico, morì sotto un bombardamento dell'8 dicembre qui a Orsogna, e gli altri in buona parte si sono salvati. Quei due bambini purtroppo sono stati messi nella camera a gas il giorno del compleanno, pensate un po', due anni e quattro anni. Questo ci dice la barbarie di chi pensa che possa distruggere l'altro vincendo. L'uomo va sempre rispettato, al di là delle religioni, delle provenienze culturali, sociali, economiche, politiche. Dobbiamo rimettere al centro la fratellanza, perché ricordiamocelo sempre, la memoria rende liberi, ma la verità rende ancora più liberi. Noemi Disegni, presidente delle comunità ebraiche italiane, che momento è questo? Un momento di incontro tra comunità ebraiche, comunità del territorio, tra famiglie, perché ovviamente famiglia Laufer, famiglia Orsonia, e ci sentiamo a casa come lo era qui il signor Bruno accolto, quindi un luogo del cuore e non un luogo della paura. Un momento speciale di verità, perché la verità è quello che è il male che è accaduto, ma è parimenti il bene di chi ha voluto salvare, aiutare, fare una scelta, una scelta di vita per gli altri e di rischio per se stessi. E noi di questo siamo ovviamente eternamente riconoscenti. La cosa più importante è la presenza dei bambini delle scuole. Se venivamo solo noi per incontrarci da soli col sindaco e le istituzioni, certo non ha lo stesso valore. I veri protagonisti sono i bambini che sono qui, che ascoltano, che forse per loro è una giornata un po' fuori dal comune. Sono sicura che ciascuno di questi bambini porterà questa giornata eternamente nel suo cuore. È per noi una grande emozione sapere che siamo riusciti a dare una goccia di memoria a questi bambini che sicuramente non siamo gli unici e ne hanno ricevute già altre, ma per annaffiare questo albero, albero di memoria, albero di pace, lo si annaffia ogni giorno, anche con le piccole cose. Non è un albero che cresce improvvisamente perché uno decide improvvisamente di essere bravo. L'albero della pace cresce con le azioni quotidiane, piccole, di giorno in giorno, con gli sguardi che si hanno verso gli altri, non con le cose grandi. Niccolò Damiano, la sua è una delle famiglie che ha accolto gli ebrei? Sì, praticamente abbiamo accolto la famiglia Schaeffer e mia madre e mia sorella sempre raccontava che era una brava famiglia, siamo stati insieme, giorni e notti insieme, nel stesso appartamento, mi diceva sempre raccontava di loro, del tempo che hanno passato, di tutte le buone cose che avevano fatto. Anna Maria Rosenberg, anche la sua famiglia è stata tra quelle che ha accolto gli ebrei ad Orsogna? Sì, io sono la figlia di Eva Taglianozzi e mia mamma e mia nonna sempre parlano della famiglia che ha parlato con loro, ha giocato con il signor Bruno quando ero bambina e si ricorda tutto, sempre parla di questa famiglia che era tanta, tanta brava. Signor Bruno Laufer, lei è stato accolto qui, era piccolissimo. Sono 4 anni, 5 anni circa, quando sono venuto qui con i miei genitori e siamo stati accolti dalla popolazione di Orsogna in modo talmente benevolo e siamo stati protetti dai fascisti e dai nazisti che hanno nascosto la nostra identità di ebrei e questo lo devo a tutta la popolazione di Orsogna che ci hanno protetto insieme ad altri corregionali che stavano qui internati qui in questo paesino che andavamo tutte le mattine davanti alla caserma di Carabiniera a fare saluto fascista davanti alla bandiera monarchica. Devo dire grazie, grazie ancora di tutto, grazie ancora a questo ricordo di questa benevolenza che la popolazione di Orsogna ha avuto verso di noi e che ci ha salvato la vita. Lei adesso dove vive? Vivo a Roma E grazie anche agli orsognesi ha figli e nipoti Sono bisnonno e grazie agli orsognesi che sono vivo e sono diventato un bisnonno e questo lo devo proprio tanto e il fatto di essermi ricordato dopo 80 anni di Orsogna per me è un vanto, è un orgoglio proprio e sono veramente commosso. Grazie a tutti.